È andata bene, diciamo che ha portato bene le ultime parole che ho detto e sì, mi sono trovato lì in mezzo a tutti quanti e per fortuna sono riuscito a fare questo gol che era da tanto, dall'anno scorso, tutta la stagione, sì. E sono contento, innanzitutto perché comunque sono arrivati questi tre punti che ne abbiamo proprio bisogno, li cercavamo contro una grandissima squadra che a mio avviso è una delle più forti insieme al Pordenone perché comunque è una squadra molto forte anche fisicamente e infatti si è visto che anche le sostituzioni del secondo tempo erano tutti messi bene, quindi sono contento sia per il gol che soprattutto per la vittoria. Non ti so spiegare bene perché comunque un ruolo, ripeto, che non è mio e quindi devo ancora imparare bene soprattutto in fase difensiva e diciamo che loro hanno preparato così la partita perché in teoria è il cappello comunque un trequartista che si spostava molto dalla mia parte e poi per fortuna ho capito un po', ho preso un po' bene le misure e diciamo che è stato Varas a aumentare. Ho visto che ha scavalcato un po' tutti, sono andato un po' all'indietro, l'ho stoppata e non ci ho pensato due volte a calciare al volo. Stavolta per fortuna è andata in porta rispetto alle altre volte e anche perché ha aiutato andare nel spogliatoio sull'uno a uno. La dedico a mio padre che mi guarda da lassù e poi alla mia fidanzata e alla mia famiglia.